Primo ottobre, giornata ONU delle persone anziane. Difendere i diritti delle persone anziane è sempre più importante. Esse non sono protette da uno specifico strumento universale per i diritti umani, come invece altri gruppi caratterizzati da situazioni di vulnerabilità. Il 14 dicembre 1990 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite vota una risoluzione che impegna i governi a un'azione urgente che tenga conto delle loro esigenze di protezione specifica. In Italia il 35% degli anziani ha difficoltà nell'accesso ai servizi sociosanitari, due su tre non partecipa ad incontri di aggregazione sociale. Eppure il 39% di essi rappresenta una risorsa per i propri familiari, prendendosi cura di congiunti e amici. Uno su dieci fa attività di volontariato. Cambia il modo in cui pensi all'età. È una vecchia esortazione, valida tuttora. I giovani devono prendere atto che anche per loro il futuro significa diventare anziani. Spetta quanti oggi occupano posizioni di potere, plasmare quel futuro in modo consapevole e rispettoso. Grazie. Grazie.